prova a immaginare di entrare in un sogno in cui tutto ciò che succede è per il tuo meglio bene da un punto di vista più alto la tua vita è questo sogno devi solo imparare a fidarti un po di più ogni giorno eccoci e ben ritrovati per questa nuova puntata del podcast lezioni di fiducia che ci vedrà oggi ancora a girare il tema dell'amore ma nella particolare accezione dell'iniziare dall'amore per sé ci pensavo proprio ieri perché ho trascorso il pomeriggio letteralmente a volermi bene e volersi bene non è un'attività specifica che corrisponda a un fare non è volersi bene come quando ti dicono prenditi cura di te prenota un massaggio fatti delle coccole con il cibo fai un bel viaggio no il bene che mi sono dedicata ieri è stato piuttosto un trattenermi dal fare dal fare che avrei automaticamente eseguito quindi ho dato priorità assoluta proprio a ciò che provavo se partiamo da un punto di vista più alto che è sempre un po lo sguardo che vogliamo tenere in queste conversazioni tutto ciò che ci accade non è soltanto quello che accade cioè dietro ai fatti dietro agli incontri dietro agli eventi dietro alle esperienze c'è il significato la ragione profonda che tutte queste diverse scene del film della nostra vita vogliono farci vivere perché noi entriamo in alcuni luoghi speciali di noi stessi come se fosse in ballo al di là appunto della parte pratica un processo di trasformazione universale che ha come finalità proprio la cura di ciascuno di noi la guarigione di ciascuno di noi che attraverso tutte queste diverse esperienze infatti verrà a toccare dei punti nevralgici nostri per aiutarci un po la volta a sgorgarli e quindi poi a creare libertà dove non ce n'è questo processo quando ci visita e quando tocca proprio i nostri punti più nevralgici per forza ci deve scuotere dall'interno e quindi dopo che siamo stati toccati dopo la tempesta serve un tempo prima che si crea un equilibrio nuovo ecco questo è il tipico momento in cui fermarsi a volersi bene perché l'atteggiamento più comune è non nutrire la consapevolezza e l'osservazione la crescita che ci arriva da quello che viviamo ma immediatamente buttarsi su una nuova azione questo è anche quello con cui siamo continuamente illusi e ingannati dall'agenda globale che si è creata e che muove il nostro vivere ecco questa non è il meccanismo della verità il meccanismo della verità è invece riuscire proprio a dare un tempo alla decodifica di quello che stiamo vivendo quindi un tempo di vicinanza al nostro cuore in cui ci tratteniamo dall'entrare in questo automatismo che vorrebbe vederci immediatamente in una nuova in un nuovo fare in una nuova azione perché la vita quando ci attraversa molto profondamente a volte tocca punti più già più anestetizzati altre volte punti invece che sono ancora infiammati crea come una sensibilità speciale che è un'area uscita dalla nostra zona comfort e quindi non è facile stare ovviamente in questa posizione vorremmo immediatamente ristare subito bene ristare subito in una situazione non così quasi pungente e quindi coprirla questa sensazione con qualche cosa più ad alto volume ma se noi invece abbiamo la pazienza di sederci accanto e accogliere tutto quello che c'è appunto volerci bene allora abbiamo l'opportunità veramente di entrare in una nuova dimensione noi corriamo facciamo copriamo tutti i silenzi con delle cose che diciamo non sempre per comunicare spesso soltanto proprio per coprire il vuoto è proprio il modo con cui inganniamo questo ascolto profondo e tentiamo anziché di avere questa connessione profonda con noi stessi di agganciarci a qualche cosa che sta fuori di noi e questo non è un vero guarire ma è proprio un chiedere a qualche cosa fuori di far smettere immediatamente quel momento di insicurezza in cui siamo soltanto noi con noi stessi non c'è qualcuno che ci dà un'approvazione che ci dice ci sarò per sempre che ci dice non devi più temere nulla che ti firma la tua la tua garanzia di amore eccetera no non c'è niente di tutto questo si tratta proprio di lasciare che le cose fuori continuino a muoversi eppure avere questa certezza di amore che viene direttamente da sé quindi essere noi in prima linea a darci le sicurezze che abbiamo sempre cercato fuori la sicurezza di non esporci al male la sicurezza di non tradirci la sicurezza di rispettarci perché se non c'è una vera guarigione quando la vita ci attraversa ci vuole portare e ci vuole portare a capire qualche cosa di noi quell'esperienza bisognerà ripeterla in realtà questa continua ricerca indiretta dell'amore questo cercare una qualche cosa fuori che ci dica la nostra amabilità è veramente la cosa più comune che ci sia e che tutti tutti viviamo o abbiamo vissuto ma è proprio da questo nostro allontanarci da noi per guardare che cosa fuori ci si aspetti da noi che crea degli atteggiamenti cioè dei tradimenti della verità dei piccoli debiti che contraiamo con noi stessi perché il nostro stare bene non si basa sulla nostra verità ma si basa su come pensiamo che dobbiamo essere affinché l'esterno il fuori qualcuno ci possa accogliere ci possa dare quell'accoglienza che noi non ci stiamo dando cioè ci stiamo giudicando ci stiamo guardando con un occhio esterno e cerchiamo di piacere e di compiacerci quando soddisfacciamo questo sguardo esterno sono movimenti mi rendo conto molto sottili sul dove si pose la nostra consapevolezza la nostra coscienza ma provate a pensare a quando la tua giornata dipende da come qualcuno ti ha visto da come magari ti piace qualcuno magari ti metti bello ti metti bella e se non ti ha dato uno sguardo che gratificasse questa tua preparazione tutta la giornata è rovinata però c'è questo mettersi in posa appunto c'è questo ricerca di corrispondere di chiedersi cosa l'altro vorrebbe vorrebbe da noi e a forza di continuare a fare questo atteggiamento in cose sempre più grandi noi perdiamo completamente il contatto con noi stessi io mi ricordo quando ero in ospedale nel 2021 per il covid che c'era una voce interna mia quando proprio ero stata messa al muro quindi non potevo veramente fare delle delle azioni a caso che diceva devi iniziare dal guarire il cuore perché avevo contratto tanti di questi debiti e so che la guarigione è arrivata quando sono immerse proprio da questo spazio interno ascoltato con molta sincerità parole tipo l'ho proprio detto e mi ricordo che è venuto il medico e come un po' una matta gli ho detto dottore io mi voglio bene e sono la cosa più importante che ho non voglio più essere nessuno e intendevo proprio questo non voglio più dover essere altro per sentire amore cioè non voglio dovermi atteggiare per accorgermi che sono degna di amore che sono amabile voglio essere accettata e amata così come sono e inizio a farlo io con me stessa questo atteggiamento dell'amore che inizia dalla totale accoglienza di sé ha infatti contiene dei semi divini non è una forma di egoismo proprio perché inizia dal dalla verità inizia dall'interrompere il gioco di maya gioco dell'illusione e creare uno spazio perché emerga appunto ciò che c'è ciò che è davvero ed è quindi un entrare nel significato profondo delle cose quello che sta dietro ciò che accade ed è avere un contatto reale con l'amore che risiede in ciascuno di noi in quella parte in cui noi siamo già perfetti quella parte nostra divina in cui appunto risiedono le qualità che stiamo esplorando nel corso di yoga in queste in questi dialoghi che lo affiancano ci sono c'è la qualità dell'amore già completamente presente quindi è inversamente a quello a quello che facciamo di solito non un aggrapparci fuori ma un rilassarci un accoglierci così tanto da farla levitare da farla emergere perché quando noi la facciamo emergere in maniera così reale così veritiera in noi allora questo amore è davvero disponibile anche per tutti gli altri ma questa volta senza inganni senza giochi dell'oca del correre farsi rincorrere che cosa devo fare come devo mettermi questa volta è proprio una specie di profumo che una volta che tu ce l'hai in te ne sei completamente pieno viene sentito viene respirato anche da tutti gli altri ed è una qualità dell'amore diversa da quella con cui ci agganciamo nel gioco proprio degli intrecci umani perché è senza condizioni non chiede neppure agli altri di essere qualche cosa ma vede di ogni di ognuno fragilità e forza perché una volta che tu l'hai fatto con te questo lavoro puoi accogliere che anche gli altri delle volte non si diano nella loro maniera diciamo più più forzuta delle volte si danno con delle parti ancora ferite e fa il tifo perché tutto quanto venga rimesso in ordine ma secondo questo progetto di amore più grande in questo modo viene ripristinato proprio il progetto originale dell'amore che è quello che sottostà a tutto ciò che è stato creato tutta la creazione è un'espansione del divino e corrisponde proprio a un'espansione dell'amore se poi fuori noi ci siamo annodati con mille ricerche più esteriori più superficiali l'abbiamo semplicemente coperto e si tratta di farlo ritornare a galla facendo dei passi indietro rispetto a questo fare che è dettato dal fare in sé senza che ci sia una reale direzione quali sono le conseguenze della pratica di questo amore profondo che innanzitutto trovi in te allora una delle cose su cui ho riflettuto proprio ieri che mi ero ritirata da una di queste rappresentazioni in cui si fa gara per essere qualche cosa e che tutto questo nostro riempire la vita di gesti di azioni di risultati di traguardi che fine ha che fine ha ricevere dei riconoscimenti di fama di potere di soldi o appunto tramite queste riconoscimenti essere così esposti all'amore degli altri da pensare di riempire i nostri vuoti in realtà al termine di tutto questo nostro fare per tutti noi c'è proprio la conclusione di questo pezzetto di manifestazione della nostra della nostra vita quindi c'è la morte e lì a questo termine davvero non conterà nulla se siamo diventati presidenti o se siamo stati in una mansione segreta a fare delle cose umilissime perché tutto quello che avremmo fatto sarà tradotto diventerà un'onda di energia e questa onda di energia conterrà tutto quello che noi abbiamo fatto che abbiamo compreso che abbiamo portato a galla alla consapevolezza e come direbbe Yogananda contiene tutto quello che noi abbiamo imparato e quanto noi abbiamo amato solo questo conterà alla fine tutti i nostri traguardi sarà saranno una qualità dell'energia che noi rimetteremo in un'altra dimensione quindi se noi l'abbiamo coltivata questa qualità stando bene tra le margherite oppure se noi l'abbiamo coltivata avendo sottoposti a noi tantissimi sudditi non conta dipende da quanto abbiamo saputo far crescere il nostro cuore e non serve quindi a questo punto neppure per sentire l'amore avere una vita amorosa non è neanche questo perché l'essere in amore dipende proprio da questo contatto profondo che hai con la parte più divina più più reale più più vera di te e l'addestramento che noi possiamo fare in questa vita comincia dalla decisione di amare e lo puoi fare qui adesso con quello che c'è perché è anche questo anche l'amore è alla fine una qualità una una vibrazione volevo in questo senso leggervi perché proprio parlando d'amore mi è ritornato in mano un libro che avevo pubblicato durante il lockdown nel 2020 esercizi d'amore e che è stato un po diciamo tenuto compresso dagli eventi di allora e anche io forse non gli ho voluto sufficientemente bene e in realtà sento che pieno di questa vibrazione del cuore di questa ricerca di un amore vero e quindi mi sono decisa proprio a a riamarlo e vi leggo da questo libro un esercizio intitolato espansione ci si può innamorare ogni giorno ogni giorno si può fare buon uso del cuore oggi ho già amato così tanto ho amato il primo raggio dell'alba ho amato la musica che saliva dalla finestra ho amato il sapore aspro di un'albicocca ho amato gli oggetti con cui ho fatto casa ho amato il risveglio di tante persone care che ogni mattino rilanciano il coraggio della vita ho amato il telefono con la voce di mia madre ho amato anche te senza chiederti niente piano senza parole come un colore interiore come esercizi di felicità il mio primo libro anche esercizi d'amore è composto di questi brani che sono parti proprio di un mio diario le parti diciamo quelle che emergono in maniera più universale dalle esperienze è parte di un mio diario dicevo che poi abbino sempre in questi libri anche alla pratica dello yoga e sono sempre pubblicati da Ananda edizioni e stando proprio infatti alla filosofia yoga l'amore che è comunque quello che muove ogni cosa viene classificato secondo tre livelli tre possibili livelli il primo Kama è proprio quell'amore quell'amore che è legato ai sensi è legato alle soddisfazioni esterne è legato agli intrecci che e ai contratti che contraiamo col mondo il secondo bhakti invece è il momento in cui noi riteriamo un po l'attenzione dall'esterno e mettiamo la nostra energia d'amore verso ad esempio una una forma del divino maestro qualche cosa che ci attiri verso i nostri piani più alti però è ancora un dialogo io tu quindi ancora un pregare qualcuno affinché per esempio a quando arriva una guarigione il male non mi faccia troppo male e la devozione che la traduzione proprio di bhakti è una pratica yogica vera che efficace tanto quanto fare gli asana infine la terza livello dell'amore prema significa invece avere talmente preso contatto con questo amore che già dentro di noi e inizia proprio nel momento in cui togliamo i nostri le nostre dita le nostre unghie le nostre grinfie dall'esterno e rivolgiamo lo sguardo verso di noi e poi sempre più nel profondo prema è proprio l'immersione nella qualità divina dell'amore che c'è già in noi e ripeto questa queste tre fasi dell'amore yogico perché mi sono sorpresa ieri mentre leggevo di nuovo esercizi d'amore mentre leggevo l'introduzione che senza ancora saper conoscere questa questa pagina della filosofia yogica avevo detto qualcosa di molto simile avevo scritto qualcosa di molto simile scrivevo appunto a che punto del mio cammino arrivava a questo libro e dicevo che all'inizio della nei primi passi del mio sentiero appunto mi ero legata aspettavo l'amore a qualche cosa che era fuori di me nella secco come se fosse un camminare verso una montagna la prima parte del sentiero era questa la seconda parte era invece piuttosto un ritirare la contenere in me questa ricerca e rivolgendomi in una direzione alta quindi praticando un po questa devozione verso qualche cosa di più alto provare a vedere che la mia azione non dipendeva dagli altri ma potevo gestirla con le mie forze con la mia volontà con con la mia capacità di amare e poi una terza fase e qui dico appunto arriva a questo libro e quando invece esci anche da questo sforzo muscolare e ti accorgi che non serve fare niente che sei amabile così come sei e allora sei pronto anche a ricevere per esempio ricevere la grazia che è la forma con cui noi ci riempiamo dell'amore divino quando gli facciamo spazio perché fintanto che noi non ci consideriamo amabili non c'è spazio per un maestro per il divino per farci sentire il suo amore quindi ecco questo era questa strana coincidenza che ho trovato e volevo leggervi quindi un altro esercizio d'amore che si intitola tenerezza per l'altro e che riprende alcuni dei concetti che hanno che sono emersi in questa chiacchierata e nel momento in cui appunto cresciuti in noi siamo in grado di relazionarci in modo più elevato anche con gli altri lo sto nerezza per le cose di te che ho detestato non le cose forti in cui sei come ogni altro per quelle fragili in cui sei solo tu quei fiori di vulnerabilità no scusate quei fori di vulnerabilità da cui risali con bracciate di forza come andando controcorrente per paura di essere visto cadere credo succeda a questo accogliendo le proprie ferite si accolgono anche quelle degli altri si vede in trasparenza la storia umana di vittorie e di sconfitte che fanno di noi oggi quel che siamo il dolore da cui si dipanano l'amore o la rabbia e si fa più chiara in queste debolezze la ragione ultima di ogni incontro aiutarsi a crescere prendendosi per un po cura l'uno dell'altro e infatti ecco una cosa che volevo dirvi nel finale e anche facendo un piccolo spot che per me questo contatto profondo con me questo modo di volermi bene passa molto attraverso il dialogo con me stessa nella scrittura che è stato questo perenne per me tenere un diario che poi ho scoperto essere proprio un diario spirituale che monitora il modo in cui un po la volta tolgo l'oscurità per far emergere la luce e questo sarà anche un po quello che vorrò condividere in un corso che terrò ad ananda dal 15 al 17 di marzo è un corso di quelli che offre proprio la comunità e sul sito ci sono tutte tutte le informazioni www.ananda.it già che ci sono faccio ancora uno spot perché già dalla prossima settimana dal 2 di marzo inizio davvero un lungo tour che mi porta praticamente fino a giugno visto che ritirandomi qui tra i colli devo partecipare alla devo portare diciamo le mie condivisioni per lo più online con questo tour invece vado incontrare le persone presentando il libro lezioni di fiducia facendo pratiche workshop il primo la prima tappa sarà a casina reggio emilia che è una sede di persone che hanno frequentato ananda e che poi hanno ricreato una piccola comunità lì è un posto meraviglioso è un'azienda agricola con prodotti biologici si può anche dormire per un numero limitato di persone se avete bisogno di avere informazioni mi scrivete oppure trovate informazioni in particolare nei miei social altrimenti la mia mail giulia.calligaro4.gmail.com bene con questa parte diciamo anche più di nuovo pratica del mondo la puntata di oggi si conclude e ci ritroviamo alla prossima puntata grazie